anche oggi facciamo il circuito l'abbiamo fatto anche martedì però oggi è composto sul posto in stazione andiamo a comporre un lavoro in cinque step ok quindi vi faccio eseguire cinque esercizi sul posto per poi andare sempre ad esplodere nella famosa corsa quindi in questo caso i saltelli sul posto chi mi segue mai da un mese che stiamo facendo queste dirette io sto cercando di farvi conoscere l'SVC programma con tutti i suoi protocolli da quello più aerobico a quello più anaerobico dove andiamo a trasformare la nostra resistenza cardiaca in forza muscolare di espressione massimale come quella del circuito io questa settimana ho avuto tre lezioni abbiamo fatto un intervallo dove abbiamo intervallato l'aerobica e l'anerobica poi martedì e giovedì circuito quindi quello che abbiamo fatto martedì lo ripetiamo oggi in modo diverso e diciamo che il lavoro in stazione in sé per sé diventa leggermente più lungo non al caso si chiama ct3 barra ct3 barra 5 v quindi ok circontraining work in questo caso quello che vi chiedo oggi è molto lavoro sul posto raga mi raccomando le posture io non mi posso vedere mi raccomando alle sommetrie cerchiamo di mantenere il più possibile sempre un saluto speciale a monia ea a ele a giulia domenico la mia piccola venelope e alla venia che mi seguono anche alle mie regge che sono cadia che sta dietro lo schermo e e anita che che mi aiuta tantissimo un saluto un ringraziamento speciale lo sport in palace di sicogno con la speranza ragazze che ci rivedremo questo e l'abbraccio non sarà solo virtuale ok comincio subito pesetti corda o cinta dell'accappatoio o elastico poi procuratevi qualcosa per fare lo swing per creare la kettlebell io ho preso un sacco ci ho messo dentro un po di cose pesanti in modo tale che riesco ad eseguire anche solo il gesto e pesetti a posto dei manobri o i barattoli soliti ok oggi facciamo qualcosa di diverso alla fine ci mettiamo a terra per eseguire dei lavori addominali quindi preparatevi anche il tappetino se non avete la mochetto per ritraire da terra ciao laura ciao marzia e iniziamo ok ciao bel respiro faccio un po di mal di testa però ci sono lì giù subito muove le gambe oggi guarda oggi facciamo qualcosa di diverso eh ragazzi è molto molto esagerato sulle gambe quando andiamo a fare il lavoro in spazione eh c 18 e il amore a ancora non muoviamo eh è masticata immagina vuoi solo non c'è la piatta io lo dico sempre il limite mentale questo lo sappiamo dai mastici braccio il passo si nota un po' strano e e tutti i lati parti le mani per le mani raga quando facciamo questo push no spingi indietro giù di queste scavole no fanno questo come se fosse una molletta no stop scendi con le spalle su queste scavole allargale gambe scendi il lato fermati ok un tempo e e fermati fai così e ok ok occhio dobbiamo cambiare lato subito senza colmarsi guarda ok segno di più delizio stop a fondo spingi indietro 4..3..2..5.. Stop.. Se sluria. Si! Si! Halta 3.. immagina la sella insieme prepariamo la stazione ok solo questo il pesetto manuto elastico o cinta ok? larghezza spalle no si dai guardati solo la tirata solo la tirata questo allora oggi vi chiedo anche di esplodere in alcuni momenti che significa saremo già un po' più veloce lo vediamo eh marzia ci sta? ciao 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 mia ciao marzia la regia di saluta guarda spingi spinta si chiama sono già tu eh? rimani scendi non andare giù ok? cosa è questo? prendi il tuo manubrio pesetto subito isometria braccio monolaterale questo è quello le gambe non si muovono guarda eh cal cal cerca di non muovere il tuo braccio in avanti va così questo senza toccare le gambe non muovi guarda stop laterale mentre lo fai si alza anche l'altro braccio sui via 4 3 2 in avanti guarda eh ok? ci sei? 3 2 1 scendi cambi cal visibile 3 2 1 stop in avanti laterale sul cadere allargo e spingo 4 3 2 1 in avanti ci sei? 4 3 2 1 stop cosa? ok? quello lo dobbiamo ripetere ci sei? ok? 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 3 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 9 9 10 10 5 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 13 14 12 12 14 15 15 21 21 22 22 22 22 ok secondo giro in stazione, quindi guarda ok 3 2 1 girata ora che lo sai ora che gli esercizi si ripetono, sono più veloce, soli i mani, va bene? ok, ritorni la spinta, torni, spinta, sono due, rimani su, scendi, torna, stiamo su no? scado, occhio, 4 3 2 1 laterale, guarda l'altro braccio eh, guarda l'altro braccio ok? ok? stop, in avanti, 1 2 3 4 5 6 7 cambio, 6 via! la difficoltà ragazzi, giusto vedere eh, ok? è questa la difficoltà, ok? 4 3 2 stop, laterale, 1 2 3 2 1 e torni, ok? ci sei? 1 2 3 4 5 ok, lo schifo a terra, non me l'ho fatto fare l'altra volta, ok? solo quello vi chiedo, due volte, ora muovo la telecamera, mi muovo io, così vengono sfocati e la vita si arrabbia, raga, schifo a terra, ok? ci siamo? oh 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 i oh 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 Schippa a terra 3, 2, 1, Groove Corri, ok Tutto quello che infatti adesso poi lo dobbiamo unire Da primo all'ultimo Ok Stop Terzo giro Farò più veloce Non mi interessa Bum 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 Lo so Guarda Guarda Sfringi queste scapole Sfringi queste gacchia Rimani Un calico retratto Scapole adotte Piappe Se non è questo eh Scendi Qui 1 Lento Spinta Spinta Lo sai Lo stai stodendo eh Stai Stai Ragazzi Stai Stai 3, 2, rimani, scendi, lo stai eh? Lo stai? Parto da questo io eh? Lenti, lenti, veloce, 4, 3, 2, 1 e lenti, lenti, no, no, questo veloce no, ok, ok, 4, 3, 2, 1, rimani, in avanti, inizi, cambio, lento, lento, ragazzi, commettate le gambe, veloce, veloce, lento, lento, veloce, 3, 2, 1, lato, 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 ok, solo spazio raga, avete capito, ok, rimani, avanti, via, rimani, 6, oh, allora, lento, schienile, tutti e due, ci proviamo? Ci proviamo? sorridi andiamo eh rimani rimani Scriviti! 3, 2, 1, corri sciagli, sciagli, sciagli con lo schifo indietro ok? 4, 3, 2, un posto 3, 2, 1, corri più veloce eh? lo swing ragazzi cosa per fare lo swing? lenti lenti veloci c'è la spinta dopo eh? stop spinta sento senti veloce rimani scendi su fisometria lento ci siamo? veloci guardami ci sei? guarda il braccio eh? laterale lento 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 4, 3, 2, rimani 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 barbara in avanti in avanti vai vai 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2 e... lo sai che c'è? lo sai che c'è? c'è lo swing c'è lo swing prendi questo prendi quello che hai prendi swing butta la pista dietro butta la pista dietro lento acquistate il gesto prendete di confidenza e poi questo questo metto il swing e non rinco nessuno ci sei? vai ci sei? ci sei? come mi devo mettere per voi? scendi 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 lo devi imporchiare qui 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 che sudata no tutto da capo ti vuoi essere la stessa mano? no raga dall'inizio io ho la concentrazione su questo lato tu qua spostati senza ok? sposta la tua concentrazione ogni tanto ferma le braccia e so ferma le gambe stai così giusto? avvicinati un po' scendi face 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 guardami controlla con soia con silenzio ooooh a terra avvicinati in giù facciamo una parpallina un enrico un culvetto a terra sposto la mia attrazzatura avvicinati in giù sposto la mia attrazzatura sposto la mia attrazzatura 3 2 1 recupera questo è recupero ok? ok? ma visto che ci stanno io faccio il prank sto buco vogliamo fare spider man 2 3 4 5 6 6 7 8 limoni plank bambini guarda che lo sai Terzo giro. Ok? 3, 2, 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6. Io to' spavola, to' piccola. E sai fare questo? E sai fare la pallina? Eh? Lo facciamo fare la pallina? Ok? Su qui, eh? Guarda qui! Ciao! Ci vediamo! Giovedì? No, aspettate! Giovedì? È martedì? È le 6 e mezza. Giovedì? Sì! Sì! Grazie a tutti.